La comunità assume un valore contemporaneo e in questo momento non è applicato come quella di Reggio Calabria che ha le prese con una delle proprie energetiche a sangue. Assolutamente sì, questo forse è il momento più giusto e corretto. Vediamo una situazione resistente in questa città. Siamo la città che non è autofisficente in Calabria, è l'unica città a non essere autofisficente. Per cui queste manifestazioni sono sicuramente al momento chiuso. Grazie.